Strategia Digitale. Idee, novità e consigli per imprenditori e professionisti appassionati di web marketing e business online. E business online. A cura di Giulio Gaudiano. Ben trovati da Giulio Gaudiano e benvenuti in una nuova puntata di Strategia Digitale. Oggi è lunedì, per me un lunedì un po' particolare perché sto per fare le valigie e partirmene per Boston. Ma che cosa vado a fare a Boston? Vado a partecipare alla più grande conferenza al mondo sull'inbound marketing che si chiama giusto appunto Inbound che sarà aperta dal mio collega newyorkese Gary Vaynerchuk con il sostegno di HubSpot, l'azienda più grande al mondo che si occupa di Inbound e sarà una cinque giorni intensissima. Pensate che le sessioni di yoga partono alle 6.45 di mattina e poi fino a tarda sera si farà parte i social networking e nel mezzo delle giornate ricchissime di contenuti, di interventi ci ho messo un giorno intero a preparare l'agenda dei panel che seguirò giorno per giorno. Quindi cercherò durante questa settimana di portarvi alcune pennellate di questo evento. cercherò di registrare direttamente dall'evento, dall'inbound, i nostri podcast settimanali. Speriamo di riuscirci. Se volete comunque seguire le mie avventure live andate a iscrivermi al mio canale Snapchat. Qui sotto nelle note dell'episodio trovate tutti i link. Seguitemi su Snapchat e vedrete giorno per giorno questa mia piccola avventura negli States. Parliamo oggi di perché, dei perché, delle motivazioni del nostro business, di ciò che sta dietro o all'inizio di ogni iniziativa di tipo imprenditoriale, soprattutto ogni iniziativa che vado a portare avanti attraverso il mondo digitale. Lo facciamo grazie alla domanda di uno di voi ascoltatori, di Elisabetta, che mi ha inviato un messaggio tramite Telegram, anzi no, questo è tramite Facebook, quindi tramite la pagina facebook.com slash youmediaweb, mi ha mandato questo messaggio. Voglio rispondere a Elisabetta in pubblico perché credo che la sua domanda sia molto interessante, sia altrettanto interessante la risposta che ho da darle. Prima di entrare nel cuore della puntata voglio però ringraziare i nostri produttori, in particolare l'ultimo arrivato, Marco Paolini, che si è unito sabato, no, venerdì, alla schiera dei produttori del podcast. Gli altri sono Roberto Andreoni, Federico Izzi, Daniele Tossi, Enrico Vagliengo, Mariano Lampis, Gianluca Gorlani, Mauro Arizzo, Marco Bazzo e Daniele Risi. Chi sono questi produttori? Sono alcuni di voi ascoltatori che hanno scelto di concretizzare il loro apprezzamento per questo podcast e impegnarsi con una piccola o grande donazione mensile, non importa l'importo, l'importante è esserci. Marco, per esempio, ha scelto di investire un euro al mese nel finanziamento di strategia digitale, ma il suo contributo è graditissimo. Ma, bando alle ciance, è il momento di scoprire perché vale la pena di chiedersi il perché del tuo business. La domanda di Elisabetta è Ciao Giulio, sono Elisabetta. Volevo farti una domanda che nasce dal tuo libro che sto leggendo. Parli dell'importanza di avere un perché. Per caso c'è un perché migliore di un altro? O per sviluppare business uno vale l'altro? Sostanzialmente, se il mio perché è Sono una persona curiosa, mi piace migliorarmi, se le mie scoperte sono di utilità per gli altri tanto meglio, ovviamente mi auguro che lo siano. Insomma, è un perché che può portarmi da qualche parte in termini di business o no? Grazie di cuore, Elisabetta. Grazie a te, Elisabetta, per la domanda. È molto interessante questo tema del perché, Anche perché alcuni di noi potrebbero dire Ma perché la stiamo facendo tanto lunga? Potrebbero anche domandarsi Uè Gaudiano, ma che mi importa del perché? Io voglio fare business, semmai voglio capire come fare business. Ecco, in realtà, la domanda del perché secondo me viene molto a monte ed è fondamentale. Il perché di Elisabetta, lo ripeto per chi non l'avesse capito, è Lo faccio perché sono una persona curiosa e mi piace migliorarmi. Se poi le mie scoperte saranno utili per gli altri, tanto meglio. Mi immagino che questo sia il perché che sta dietro a un blog, a un'iniziativa editoriale tramite il web, tramite il mondo digitale, quindi alla creazione di un canale YouTube, di un podcast, di una qualsiasi forma di pubblicazione. E quindi Elisabetta dice, a me piace migliorarmi, mi piace scoprire nuove cose, se poi le cose che condivido sono utili per gli altri, tanto meglio. Io trovo, Elisabetta, con tutto il rispetto, so che se mi hai fatto questa domanda accetterai anche ben volentieri la mia risposta. Trovo che il tuo perché sia totalmente autoreferenziale e quindi privo di valore dal punto di vista business. La tua domanda era, può portarmi da qualche parte questo perché? La risposta è no, non ti porterà da nessuna parte. Perché non ti porterà da nessuna parte? Nella mia visione, naturalmente, nella mia umilissima opinione, il business è in fondo una relazione. E una relazione può avere, può prendere il via da tante cose diverse. Può prendere il via da tanti perché diversi. Però attenzione, facciamo un parallelo con le relazioni affettive. Io potrei andare, sarei potuto andare da mia moglie quando ancora non eravamo neanche fidanzati, ci conoscevamo e andare da lei e dirle guarda, vorrei uscire con te, vorrei fidanzarmi con te perché mi fa stare bene stare insieme a te e poi mi piace che quando vado in giro gli altri vedano che c'è una bella ragazza al mio fianco. E rispetto a tutte le altre ragazze che sono troppo basse tu sei molto alta e quindi mi sembra che ti intoni molto bene. Pensa poi che è comodo quando facendo i selfie non mi devo mettere in modo che tu non sembri bassa ma in maniera naturale sarai alta. Cioè, è un perché mostruoso. Nel senso è tutto focalizzato su di me. Ora, io l'ho anche esagerato. Però quello che voglio dire è che i tuoi perché non devono essere focalizzati su di te devono essere focalizzati sugli altri sulle persone per le quali vai a fare qualcosa altrimenti non stai facendo business altrimenti stai facendo formazione cioè scegli cosa consigliabilissima io per esempio lo faccio fare alle classi alle quali insegno la scrittura per il web gli faccio tenere un blog gli faccio tenere, creare un'iniziativa editoriale anche alle classi alle quali insegno a creare video per distribuirle sul web gli faccio creare un canale YouTube quindi è buonissimo il fatto di allenarsi alla ricerca, alla scrittura alla produzione di contenuto a trasformare le informazioni che troviamo in informazioni che possiamo riutilizzare facendolo, pubblicando qualcosa attraverso il web quindi va bene, ma è formazione non è business se vuoi fare business devi capire con chi vuoi fare business o meglio per chi vuoi fare business e domandarti i tuoi perché in relazione a quelle persone quindi se io devo diciamo fidanzarmi con mia moglie vado e gli dico io sono innamorato di te perché voglio rendere te felice voglio che insieme possiamo fare tante cose belle nella vita voglio fare dei figli con te ok? cioè facciamo le cose insieme o io voglio fare delle cose per te ma non io faccio le cose per me e poi chi c'è c'è chi non c'è non c'è e Coco Pops è tutto per me capi come recitava il jingle della pubblicità dei cereali negli anni 80 è molto molto importante sapersi guardare di fronte saper guardare al di là questo te lo dico proprio perché se non riesci a capire qual è il tuo perché in relazione a un altro ti vengono a mancare tre aspetti fondamentali perché dovresti individuare i tuoi perché lo dico anche a tutti coloro che ci ascoltano e che magari si stanno domandando qual è il mio perché qual è la mia motivazione uno dei cinque elementi del brand positioning uno dei cinque elementi caratterizzanti quando una persona vuole creare un personal brand che sono chi sei che cosa fai per chi lo fai come lo fai e perché lo fai è appunto il perché lo fai perché è così importante il perché scusate il bisticci di parole prima di tutto perché il perché ti posiziona appunto cioè ti rende diverso dagli altri tutte e due io e il mio competitor facciamo la stessa cosa ma io lo faccio per questo motivo penso a dei ragazzi che ho intervistato che hanno avviato un business molto interessante di formazione attraverso il mondo digitale money surfers si chiamano io ho intervistato ho intervistato Davide Francesco Sada perché è anche un podcaster e Davide diceva questo noi abbiamo creato un broker noi crediamo nel karma crediamo che quello che facciamo di bene poi ci ritorna indietro loro si occupano di trading sulle valute estere forex quindi hanno utilizzano normalmente i broker cioè delle delle sorte di banche che gli cambiano le valute e quindi gli permettono di comprare e vendere valute estere per chi non è pratico di questo di questo mondo allora ci sono tanti broker e l'interesse di questi broker è diciamo speculare sul fatto che le persone fanno le operazioni quindi si prendono una piccola percentuale un piccolo importo ogni operazione e lo fanno naturalmente a scopo di lucro loro hanno creato un broker che lo fa a scopo di lucro ma tutto questo lucro lo va a investire nel microcredito per le nazioni in via di sviluppo quindi diciamo tutto il guadagno in realtà non è a fine di lucro perché tutto il guadagno va a essere investito in una charity in una iniziativa a fin di bene quindi questo perché li differenzia allora io vado a utilizzare il loro broker perché so che rispetto all'altro non per servizi in più cioè non per il suo modo di fare le cose ma perché il suo perché mi piace e mi sento di sposarlo quindi il perché ti posiziona il perché ti focalizza avere chiaro il tuo perché ti aiuta a dire i giusti sì e i giusti no nel tuo percorso ti aiuta ogni giorno a fare la lista delle tue priorità tra le mille cose diverse da fare ti aiuta a riprendere il cammino quando ti sei dovuto fermare o quando hai deviato per un motivo o per l'altro quindi ti focalizza sulla tua meta ti aiuta a non disperdere le energie ma a focalizzarti sulle cose che realizzano il tuo perché e non su in genere su tutte le attività che possono contribuire al tuo business e infine il perché ti motiva il perché ti spinge è una missione è un'urgenza è la percezione che stai facendo qualcosa di importante l'episodio di venerdì per esempio io l'ho registrato venerdì notte non so a che ora allora uno potrebbe anche domandarsi uè Gaudiano ma perché fai tutta sta fatica a fare il podcast fai tardi ma che ti importa ma lascia stare no no non lascio stare perché io ho un perché perché il mio perché siete voi che lo ascoltate e per me non c'è una soddisfazione più grande più motivante di sapere che condividendo quello che io scopro nel mio lavoro giorno dopo giorno quello che io scopro lavorando con i miei clienti quello che io studio a beneficio dei miei clienti condividendolo con voi in maniera totalmente aperta e gratuita posso cambiare in meglio la vita di qualcuno che magari sta a chilometri di distanza da me per me è fondamentale un perché motivante quello che mi fa dire no oggi non mollo e conoscere i miei ascoltatori uno per uno per esempio ho incontrato personalmente Federico Izzi un giorno uno dei finanziatori che ho letto il suo nome prima prima che fosse finanziatore un giorno siamo incontrati a un evento è venuto si è presentato ciao sono Federico e Federico mi ha detto sai io ascolto il tuo podcast la mattina però mi sveglio molto presto a volte ho delle botte di insonnia mi sveglio alle 2 alle 3 di notte non posso fare nulla non posso neanche lavorare perché insomma sono stanco e mi piacerebbe ascoltare il tuo podcast infatti vado ad ascoltare le vecchie puntate e io che pubblicavo il mio podcast nelle prime ore della mattina alle 7 alle 8 di mattina ho anticipato la pubblicazione quindi ho cominciato a registrare prima io ho anticipato alle 2 del mattino la pubblicazione l'ho fatto proprio per lui e magari questa cosa potrà essere utile a tanti altri voi quindi questo perché è motivante e ti spinge a rendere sempre migliore il tuo business quello che fai naturalmente poi questo ha un ritorno non è che devi avere un ritorno in termini di business se no dicevamo è il tuo diario personale o è un'iniziativa di formazione allora mi raccomando Elisabetta mettiti sotto capisci con chi ti stai relazionando attraverso questa relazione che è il business che vuoi creare che è il tuo business e non dimenticare di trovare il tuo perché perché il perché ti posiziona ti differenzia quindi il perché ti focalizza e il perché ti motiva siamo arrivati alla fine della nostra puntata ragazzi io vi ringrazio vi ringrazio di cuore per tutto l'affetto che mi dimostrate attraverso le vostre recensioni e queste recensioni sono una leva del mio perché ne voglio leggere una tra le ultime arrivate vediamo la ripesco eccola qua il nome utente che è andato che ha lasciato su iTunes questa recensione è Red Tele 76 e ha intitolato la sua recensione un grande faro in questo mare digitale non so qual è il tuo nome se ci sei batti un colpo scrivimi a strategiadigitale chiocciolayumediaweb.com o contattami attraverso i canali di contatto diretto come per esempio telegram.me slash Giulio Gaudiano perché mi ha scritto seguo Giulio da febbraio 2016 e trovo questo podcast indispensabile a mio giudizio lo ritengo un faro a tutti gli effetti da circa un anno lavoro nel settore dei servizi legati al mondo dell'e-commerce provenendo da esperienze passate che di digitale avevano ben poco e devo dire che Giulio e il suo podcast mi hanno guidato in questo enorme mondo in continua evoluzione questo podcast quindi è diventato per me un faro una guida nonché motivo di ispirazione lo consiglio a tutti esperti nel settore e non grazie ragazzi e forza Giulio eh guarda cioè ditemi voi se questo non è un perché ecco questo è il perché che vi invito a cercare anche voi ed è il perché io ringrazio tutti coloro che lasciano una recensione sul podcast all'interno di iTunes non sapete come si fa ma ragazzi nelle note della puntata c'è un bel video tutorial creato da uno di voi ascoltatori su come si lascia la recensione quindi veramente non avete scuse se mi volete regalare 30 secondi della vostra vita fatelo perché noi lo apprezziamo tantissimo e allora voglio dire un grande grazie anche a Sara Veltri coautrice del podcast al nostro fonico Costanza Mineo e a radiospeaker.it curatore del nostro sound design grazie mille e alla prossima strategia digitale idee, novità e consigli per imprenditori e professionisti appassionati di web marketing e business online e business online a cura di Giulio Gaudiano